Certo che per una coppia di palle di pelo non ve la cavate male. Sono il dottor Nefarius Tropi, padrone del tempo e creatore di questo vortice temporale. Uka Uka e il dottor Cortex mi hanno inviato per mettere fine a questa farsa. Quei cristalli resteranno qui con me. Potete scommetterci. Il dottor Cortex mi hanno inviato per mettere. Grazie a tutti. 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 a tutti.